Palazzo del Podestà Inferiormente è tutto in pietra viva, con accurate modanature nelle basi e nelle cornici d'imposta dei pilastri e degli archi. Superiormente invece è tutto in latirizzi, con la sola eccezione delle colonnette in pietra delle quadrifore, rifatte però nel secolo scorso, e degli antichi stemmi podestarili quasi tutti oggi abrasi. Un'arbitraria aggiunta ottocentesca è la classicheggiante merlatura del ricco elaborato cornicione. Un epigrafe, ben visibile sul pilastro angolare di destra, riporta nomi e date, quello di Papa Bonifacio VIII e quello del governatore piacentino Bernabò di Lando, 2 maggio anno 1299. Sul bordo della cornice è inoltre indicato il nome dell'architetto, Magister Pauluzius Mephecit. Sull'arcata centrale del prospetto è posto il trittico dei protettori, che risale a due epoche distinte. La nicchia centrale, con la statuetta in pietra di San Paterniano, la cattedra e il ricco Tortiglione, è infatti dei primi anni del secolo XIV, mentre le nicchie laterali, con le statuette in cotto di San Fortunato e San Teusebio, e la classica incorniciatura in pietra, sono opera del secolo XVI. La moderna torre civica del 1950 è stata discutibilmente retta in sostituzione del settecentesco campanile di piazza, diroccato a mine dalle truppe tedesche in ritirata, insieme con tutti gli altri campanili delle maggiore chiesi fanese nell'agosto del 1944.